E' a vita, piccolo centro della provincia trapanese, che gli uomini vicini a Matteo Messina Denaro tenevano i loro summitti di mafia. Da tempo i carabinieri del reparto operativo di Trapani li tenevano sotto controllo, seguendo spostamenti e intercettando conversazioni. Si è scoperto così che uno degli uomini più vicini al superlatitante era un imprenditore agricolo incensurato, Gaspare Gucciardi, 58 anni. Secondo gli investigatori sarebbe stato lui uno degli uomini che avrebbero coperto la latitanza dell'inafferrabile boss e, assieme ai capi dei clan trapanesi, avrebbe sostenuto economicamente le sue attività. Nella notte è scattato l'arresto, dopo che due settimane fa era stato condannato in primo grado a dieci anni per associazione mafiosa. Per i magistrati ci sarebbe stato il pericolo di fuga. Dalle indagini è emerso che Gucciardi, quando aveva scoperto una microspia nella sua auto, avrebbe avvisato i capi e le cosche che i carabinieri erano sulle loro tracce. E poco dopo avrebbe messo a disposizione il suo casale agricolo per gli incontri degli uomini a capo e le cosche, allarmati dalle indagini di polizia. La scorsa settimana era scattato anche il sequestro di una serie di beni, oltre due milioni di euro, molti contanti ma anche lingotti d'oro, che sarebbero stati necessari per coprire le spese per la latitanza di Matteo Messina Denaro.